Ciao a tutti e ben ritornati nella cucina del re. Che capitolo ragazzi, che capitolo. È così bello che ho messo One Piece nel frigorifero per congelarlo in eterno. Ad ogni modo, il capitolo 967 di One Piece mi ha permesso di modificare totalmente delle idee che avevo fino al capitolo scorso. Idee sui poneliffe e sui contenuti da essi riportati. Ma prima di cominciare, anzi, sigla, come dice Ronin, sigla col ditino, sigla. Nel capitolo 846 il barone Tamago afferma Questi monumenti di pietre incisi si chiamano poneliffe, sono sparsi per tutto il mondo e in centinaia di anni non sono mai stati distrutti. Si dice che ce ne dovrebbero essere circa 30 bond e che 9 di questi siano quelli che contengono informazioni. Nel momento in cui condurranno sull'ultima isola, Laftail, queste pietre cominceranno a raccontarci la verità di questo mondo, sua. Tuttavia, per raggiungere l'ultima isola, ovvero Laftail, sono necessarie tutte le quattro pietre rosse conosciute come Rod Poneglyph. Didascaria sotto questo dialogo, 4 Rod Poneglyph, 9 Rio Poneglyph. Bene, ora, non sappiamo come Big Mom sappia queste cose, ma sappiamo che la sua intelligence sia il migliore al mondo. Tuttavia non mi sento di escludere che possa essere giunta all'Hotstar durante questi lunghi 24 anni dalla morte di Roger. Comunque non è questo il punto del discorso. Allora, partiamo dal presupposto che Roger durante il suo viaggio, che mio dire comincia dall'Hotstar, quindi 39 anni fa, con molte probabilità abbia letto pochissimi Poneglyph, chiamiamoli grigi, quelli normali, non sono alieni grigi ma sono Poneglyph grigi. Questo perché? Perché all'Hotstar Roger ha scoperto, in qualche modo, che ciò che gli serviva per raggiungere l'isola successiva, che appunto era Laftail, erano i Rod Poneglyph. Perciò Roger cercava i Rod, punto, non ci sono altre storie. Gli altri Poneglyph, pur sapendo che erano reliqui importanti, come dice nel capitolo 966, non gli importavano. Nei successivi 14 anni, ovvero dalla partenza dall'Hotstar alla conquista di Laftail, ha avuto poi la fortuna o il destino di trovarli tutti e quattro, talvolta anche incrociando Poneglyph normali, grigi, come vi ho detto prima. A differenza sua, invece, Robin ha sempre cercato i Poneglyph grigi e ad oggi, per quanto ne sappiamo ed escludendo i Rod, ne ha letti 5. Inoltre sappiamo che Brook ha il calco di altri tre Poneglyph, tra cui un Rod, e a Wano c'è un altro Poneglyph grigio nel palazzo di Orochi, oltre al Rod in possesso di Kaido. Pertanto, esaminando un attimino tutti i Poneglyph che la ciurma di Rufi ha in possesso, anche potenzialmente, abbiamo Uno, quello di O'Hara, che conteneva il nome del Regno Antico, su cui Robin ha studiato la lingua antica, quindi presumo che lo abbia letto. Due, uno trovato nella giungla, che vediamo durante, mi sembra, la saga di Arabasta, che indicava molto probabilmente quello di Arabasta, appunto, e che secondo me è lo stesso che trovano Roger e Ode nel capitolo 967. Poi il terzo è quello di Arabasta, che conteneva l'ubicazione di Pluta, il quarto è quello di Skypiea, che conteneva l'ubicazione di Poseidon, il quinto è la lettra di scusa di Joy Boy a Poseidon nella foresta marina dell'isola degli uomini pesce, il sesto è quello che Jimbe ha trovato sott'acqua e che poi ha regalato a Big Mom, che secondo me, come vi ho detto anche in una live, indica la posizione di Uranus, poi c'è il terzo poneglyph che è in possesso di Big Mom, che, visto dove siamo arrivati con la storia, deve avere per forza informazioni importanti per la trama, per la macro trama, e otto, facciamo otto con le manine, il poneglyph di... no, non il rode, ma il poneglyph di Wano, che è quello che è nascosto nel castello di Orochi, più i tre poneglyph, che sono quello di Zoo, quello di Big Mom e quello di Kaido. L'ultimo, che abbiamo visto nel capitolo 967, che era posizionato nell'isola degli uomini pesce, per adesso non si sa dov'è. Perciò su 30 poneglyph totali, inclusi Rod e quant'altro, ne abbiamo visti solo 11. Tuttavia, di questi 11, 6 sono potenzialmente legati alla storia. Quello di Ara Basta, quello di Skypie, quello trovato da Jimbe, quello di Wano, quello di Big Mom e quello di Oara. 6 poneglyph. Perciò mancano, teoricamente, solo tre poneglyph per completare il rio poneglyph. E Robin dovrebbe avere il quadro completo della situazione. Ma... Un po' di zumba... Ma c'è un ma. Reilig dice, La verità è che abbiamo scoperto tutta la storia. Poi Robin si prende male, oddio... E poi procede dicendo. Procedi un passo alla volta a bordo della vostra nave. Di noi, come dell'agente di Oara, si potrebbe dire che siamo stati un po' avventati. Anche se in questo momento vi rivelasse ogni cosa a proposito della storia, non potreste fare alcunché. Osserva con attenzione il mondo, la conclusione a cui potresti arrivare non è necessariamente la stessa a cui siamo giunti noi. Personalmente, fino al capitolo scorso, pensavo che Roger e Shurma fossero partiti per il loro ultimo viaggio con l'obiettivo di scoprire la verità. Perché in precedenza, raggiunta l'ultima isola che ora sappiamo essere l'Ostar, avevano scoperto qualcosa della storia che il governo nasconde da 800 anni. Invece, Roger era solo un avventuriero che desiderava semplicemente entrare negli annali della storia, come il pirata che aveva fatto il giro del mondo, raggiungendo la vera ultima isola del pianeta. Ciò che io precedentemente pensavo, annesso al fatto che Rayleigh prima e Oden in questo capitolo affermano di sapere tutta la storia, è che i poneglyph consegnati all'obbligazione delle linee ancestrali non dovessero far parte dei nove poneglyph che compongono il rio. Per il semplice fatto che Roger, per quanto ne sappiamo, non c'è mai stato nelle tombe dei nefertari. Però ora che sappiamo davvero com'è andata, tutto secondo me è tornato al posto giusto e si è collocato esattamente dove doveva collocarsi. Quindi, a mio dire, i novi del rio poneglyph sono una sorta di riassunto in fondo al libro o del capitolino. Ti fanno lo spiegone, in poche parole, di quello che è successo nel Regno Antico, ti mettono qualche pillola qua e là, ti indicano in breve gli elementi chiave, ma per avere il quadro completo devi anche raggiungere l'uftail. Una volta che arrivi là, c'è qualcosa che ti dice, that's all folks, è qua, c'è arrivato, è tutto questo, questa è la somma di tutto. Tuttavia, se hai anche il messaggio dei nove contenuti nel rio, cosa che Roger non aveva perché non ha mai raggiunto Arabasta nelle tombe, hai una chiara lettura totale tombale del tutto. Tipo dove sono le armi, che cosa serviranno, perché senz'altro queste armi servivano per sbloccare il finale di One Piece, e si spiega anche perché Ray dice a Robin di osservare bene il mondo e che potrebbe arrivare ad un'interpretazione diversa del tutto. In breve, il rio pone glifo è come avere le nove pagine più succose di un libro di cento pagine, le cento pagine dei cent'anni, ma se leggi solo il rio e non arrivi a l'uftail, o se arrivi a l'uftail e non hai il rio completo, non puoi sbloccare il livello successivo. A questo punto credo che il testo inciso da Roger a Skypiea sia la chiave di lettura del tutto. Infatti dice, sono stato qui e porterò queste scritture, questi testi, queste lettere, fino agli estremi confini del mondo. Estremi confini del mondo è un adattamento, perché il termine che usa è alla fine, fino alla fine, all'estremo finale. In questa frase invece Roger usa proprio il verbo portare, condurre. È un verbo che più che indica prendere una cosa e portarla da un'altra parte, condurla verso un gol, un fine. Prima di questo capitolo, sinceramente, non avevo mai capito il perché di questa scelta verbale. Perché dicevo, che cacchio deve portare alla fine? Lui deve soltanto arrivarci e leggere man mano i pezzi. Ma da questo capitolo, il 967, secondo me, queste parole sono più chiare di come non sono mai state. Sono chiare veramente come il sole. Bisogna portare le scritture del rio fino alla fine, perché solo là avranno davvero un significato e un'utilità. Roger, capito questo, e capito che gli mancavano pezzi, ha pianificato la sua morte e l'era della grande pirateria. In quel momento, tra le scroscianti risate che vediamo in questo bellissimo capitolo, che ha emozionato veramente chiunque e chi non si è emozionato è un coglione, ha capito qual era il suo destino. Lui si è fatto carico della volontà di Joy Boy e l'ha riversata sul mondo intero, confidando che prima o poi qualcuno, nel momento giusto in cui tutto si sarebbe incastrato perfettamente, avrebbe finalmente tolto il vero sulla verità che si nasconde su quell'ultima isola. Spero di essere stato chiaro, ho farfogliato un po', mi sono anche emozionato nel recitare questa cosa. Vi auguro buon anno, ci vediamo l'anno prossimo e speriamo che le cose siano ancora più belle di quest'anno. Adieu.